buonasera a tutti ciao irena buonasera buonasera grazie per l'invito no grazie a te per essere qui allora prima che prima di cominciare volevo appunto presentarti al nostro pubblico irena ruscia e possa mai è una scrittrice publicist e docente di lingua e letteratura ucraina all' all'università di milano ha contribuito frequentemente a alcuni articoli sulla repubblica sull'inchiesta è stato anche proprio da uno di questi articoli di la repubblica che abbiamo deciso di contattarla partirei anche proprio da da quel da quella da quell'articolo perché in fin dal fin dal suo titolo fin diciamo da dall'incipit tu inquadravi il il rapporto tra tra la russia e l'ucraina come quello tra un paese che nel corso dei secoli ha tentato ripetute in maniera insomma ripetuta di colonizzare il la popolazione e il territorio dell'ucraina e questo diciamo è una prospettiva che seppur storicamente come dire assodata e accettata in italia per diverse ragioni è abbastanza assente dal dibattito mediatico al di là ovviamente degli specialisti e l'altro aspetto che tu inserivi in questo in questo in questa lettura è il fatto che non c'è stata una generazione di ucraini fino ad oggi che non abbia dovuto confrontarsi con questo tentativo di colonizzazione e che a cui vita non siamo state segnate in maniera estremamente drammatica da questo da questo rapporto con con la russia quindi sì vorrei partire da questo da questo aspetto e se farebbe piacere se tu riuscissi ad esplorarlo e spiegarlo meglio per il per il nostro pubblico grazie per la domanda allora sì come avevo già scritto in questo articolo sulla repubblica che praticamente cominciando dal 1700 tra i territori di odierna russia e ucraina si crea questo questa relazione tra un colonizzatore e una terra da colonizzare e per cominciando dal 1700 in poi non si può proprio non rendersi conto di questa presenza esterna che ha ostacolato fino al 2014 andiamo così avanti diciamo l'andare avanti di insomma dell'idea dell'ucraina perché l'ucraina prova la sua prima statualità prova la prima esperienza di uno stato ancora nel 1600 con etmanato e quindi con etmanato dei cosacchi che quindi sui territori di sui territori ucraini si forma il primo stato e dopo ovviamente cioè e ha funzionato e ha esistito quasi per cent'anni quindi anche questa esperienza di questa statualità che poi è stata ripresa dai vari esponenti del pensiero indipendentista ucraino ha giocato un ruolo molto importante nella storia perché anche lì possiamo trovare le radici anche di questa resistenza che noi vediamo oggi in ucraina e quindi cominciando dal 1700 quando diciamo i territori del territorio ucraini in parte sono stati inglomerati in confederazione polacco lituana in parte nell'impero nell'impero russo e da lì inizia questo lungo percorso di di dipendenza da questo fattore esterno che continua sempre a influenzare le scelte che vuole prendere l'ucraina per esempio già durante anche nella primavera dei popoli quella primavera dei popoli europei anche lì ci sono stati delle idee indipendentiste che sono nate in ucraina nel metà del 1800 che anche poi sono state per esempio c'era questa confraternita e cirillo metodiana che la sua parte in questa confraternita faceva parte il nostro grande poeta dello spirito ucraino tras e quindi anche lui per esempio è stato poi incarcerato e mandato al confine dell'impero russo con una condanna di non poterne scrivere in ucraino né disegnare perché oltre a scrivere in ucraino era anche un grande pittore e poi all'inizio per esempio del 1900 tra 1917 1920 abbiamo questi vari tentativi in varie forme di lanciare di instaurare un'indipendenza dell'ucraina e infatti adesso tanti storici parlando dell'indipendenza del 1991 non parlano come l'inizio dell'indipendenza ma come dell'indipendenza ritrovata cioè riacquisita sempre basandosi sull'esperienza dell'inizio del ventesimo secolo di questa di questi tre anni che comunque hanno cercato sempre una forma adatta per all'indipendenza dell'ucraina e forse lì diciamo che da questo l'inizio del ventesimo secolo parte anche la memoria generazionale quella che noi ricordiamo attraverso ancora i bisogni nonni quello che poi veniva tramandato non soltanto nei libri ma proprio già dal insomma dalla famiglia famiglia da generazione generazione che già nella nella nostra pelle ci fa vedere questo queste scelte che prendeva sempre il il centro mosca rispetto alla quello che lui intendeva la periferia di chi anche se qui andando ancora secoli secoli nella storia sappiamo che il centro era chi non mosca perché è lì che è nato insomma nato nata la storia anche di quelle di quelle terre sì grazie anzi per essere riuscita a condensare diciamo un periodo storico estremamente esteso in pochi minuti credo che sia che sarebbe come dire un un pezzo di intervista poi quasi da estrarre e da e da ripubblicare a parte per avere come dire una 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 un flash diciamo sulla storia reina che purtroppo molto spesso nel dibattito pubblico si sa per scontato che cominci nel 91 che è completamente assurdo ovviamente in proprio in questo senso in qualcosa che in quello che dicevi hai detto questa cosa molto interessante di come in un certo senso l'indipendenza dell'ucraina nel 1991 non sia un evento cioè non sia sia un'indipendenza ritrovata cioè ricollegandosi alle varie esperienze la repubblica popolare ucraina la repubblica occidentale ucraina e l'etmanato secondo etmanato del 1918 insomma di questi vari tentativi di stabilire un uno stato indipendente ucraino in questo senso siccome l'indipendenza ucraina del 91 è un evento relativamente recente cioè ci sono persone molto giovani che ce l'hanno nella loro nella loro memoria personale insomma nelle loro vite questo crea una quasi una forma di legame con la storia del novecento particolarmente come dire un senso di continuità e di legame particolarmente forte per molte persone ancora giovani che è un fatto abbastanza abbastanza interessante nel senso che non non credo ovviamente tutti avevamo dei legami storici col passato ma è un fatto abbastanza particolare secondo me dei dell'ucraina e di altri paesi ovviamente che erano un tempo parte del blocco sovietico se farebbe piacere se tu riuscissi appunto a parlare un po di qual è il bagaglio appunto storico anche per le generazioni più giovani allora io sono millennial sono nata nel 1986 e infatti io per esempio io in quanto anche la mia generazione porta ancora i segni dell'unione sovietica e sappiamo che non era assolutamente quella rose fiori di quale se ne parlava magari anche all'estero di tutti questi popoli felici e eccetera anche soprattutto le condizioni le condizioni sociali e condizioni economiche eccetera però la generazione che nasce già nell'ucraina indipendente che non ricorda per esempio non si ricorda negli anni 80 difficili con diciamo i negozi vuoti assolutamente con entri in un negozio ci sono tipo due cose appoggiate sul sui banchi e basta non si ricordano gli anni difficili anni 90 quelli post scissione unione sovietica una crisi una crisi talmente profonda economica che anche in parte ha predestinato le scelte di quelli che adesso sono quarantenni 40 più diciamo 50 più che anche gestiscono in parte il nostro paese la nuova generazione non riporta questa memoria non ha non ha la memoria di questi se vogliamo anche chiamarli traumi e quindi è una generazione fresca che è nata già con in un'ucraina indipendente è nata già con le frontiere aperte se vogliamo anche se all'epoca ancora nel 2000 ci voleva un visto per uscire in ucraina ma non era impossibile come in unione sovietica che praticamente non potevi non potevi uscire e quindi questa questa memoria non c'è non c'è più insomma c'è tramite genitori ma non si non si è stata sperimentata infatti la generazione giovane già la nostra generazione era più diciamo più rivolta verso l'occidente perché abbiamo fatto anche la rivoluzione arancione io per esempio era il secondo anno dell'università e tutti quelli dell'università insomma erano presenti in piazza anche i più giovani e e quindi nasce questa generazione senza che non può assolutamente accettare una politica di un paese esterno che viene e vuole dettare le regole le regole con le regole come vivere poi ciò che magari veniva anche preso un po per scontato dopo 2014 non lo è più quindi magari anche certe cose che potevano passare prima come non so la musica russa i blogger russi quello che si gira parliamo sempre delle generazioni giovani magari viaggiare in russia dal 2014 non c'è non c'è più neanche questo legame quindi l'ucraina si assolutamente gira con la schiena verso il vicino grazie e allora proprio da questo da quest'ultima da quest'ultima frase proprio che hai detto mi sposterei su un altro su un argomento che siccome abbastanza legato e che senti che un argomento che sentiamo ripetuto spesso e cioè è questo diciamo supposto legame di fratellanza come viene spesso descritta cito tra il popolo ucraino e il popolo russo questo senza andare voglio dire nei come dire nella nella propaganda poteniana della dell'unità dei due popoli ovviamente un argomento che non vogliamo nemmeno affrontare in questo caso ma anche voglio dire molto a molta stampa e multimedia in buona fede tendono diciamo a ripetere questo questo questa narra questa narrazione riguardo alla supposta fratellanza come a sottolineare l'essenza diciamo fratricida di di questa guerra è un non so una nozione a cui nella mia esperienza personale ho sempre trovato abbastanza poco riscontro devo dire in ucraina però sarei come dire interessato a sentire quello che è il tuo punto di vista su sull'argomento anche ripeto con le differenze generazionali penso che i 70 anni di unione sovietica hanno comunque con tutte le politiche che sono state fatte soprattutto per lo anche smistamento dei popoli per esempio quello del del della deportazione dei tatari di crimea dalla crimea negli anni 50 ma anche smistamento dei popoli dal donbass e anche all'arrivo del della popolazione russa nel donbass che poi abbiamo visto come ha influito anche sulla situazione odierna tutte queste politiche hanno di mischiare insomma mischiare i popoli tra di loro ma anche leopoli che per un po' per un certo tempo era diventata anche lì un posto di di della popolazione che parlava russo e tutte queste politiche ovviamente hanno portato a creare i legami magari anche a livello familiare che da un punto possiamo considerare come un legame di fratellanza però dall'altro canto ogni famiglia ucraina praticamente ogni famiglia riporta questi traumi generazionali come per sì come per esempio holodomor sì lo sterminio della dei contadini ucraini per la fame e io conosco anche nella mia famiglia si è sperimentato anche conosco tanti tanti altri che ne parlano poi la seconda guerra mondiale per come è stata condotta anche l'ucraina che prima i tedeschi l'hanno attraversata poi l'armata rossa dall'altra per cacciare i tedeschi quindi siamo siamo stati attraversati le terre di là e di qua e tutti questi traumi che sono stati certe cose proprio volute fatti per le mani della del popolo russo anche ucraino che collaborava magari perché ovviamente non possiamo dire soltanto che è stato così o così però le scelte venivano prese a mosca quindi per questo noi comunque continuiamo a parlare di questa mancanza di fratellanza dove venivano prese le scelte e come e quindi io che nella famiglia ho un bisnonno fucilato da Enkavedè e l'altro bisnonno che è andato nell'armata rossa a combattere senza un fucile in prima linea e questi esempi generazionali sono presenti in ogni famiglia ucraina e poi anche la mia nonna visto che il bisnonno è stato fucilato era la figlia del nemico del popolo quindi non poteva andare a studiare e questo vi confesso ha dovuto truccare i documenti per andare a studiare perché alla fine ha fatto gli studi e diventata una insegnante di matematica e tutte queste cose sono state fatte per mano delle certe scelte e la politica dell'Unione Sovietica per tanto tempo ha fatto tacere queste cose quindi non potevamo parlarne ma anche in famiglia tutte le cose che parlavamo in famiglia sia le porte chiuse, sussurate per non essere sentiti eccetera anche e quindi solo nell'Ucraina indipendente quando abbiamo cominciato a parlare ad alta voce su i crimini di Stalin su Volodomor, su come è andata la seconda guerra mondiale su il terrore degli anni 60 dopo anche tanti esponenti della cultura ucraina degli anni 60 poi incarcerati e parliamo anche ancora del 1985 quando muore il nostro poeta Vassil Stuss per lo sciopero di fame in un carcere russo e tutto questo silenzio magari ha portato sempre a questo comportamento di un subdolo di consentire ma nell'Ucraina indipendente a analizzare certe cose cominciare a parlare, cominciare a raccontarli e anche a condividere tra di noi soprattutto gli ucraini quello che era il nostro passato ci fa vedere che questo mito del popoli fraterni è assolutamente una cosa in generale ovviamente perché parliamo generalizzando e sì una cosa fasulla Hai parlato appunto della lingua ucraina e del trattamento che aveva subito la lingua ucraina nel corso della storia non solo sotto il dominio imperiale russo ma anche l'unione sovietica proprio qualche tempo fa ricordavo di aver visto un'intervista di Miroslav Marinovich un dissidente per gli ascoltatori è un dissidente ucraino che faceva parte uno dei membri fondatori mi pare del Ukrainian Helsinki Group che era un gruppo di dissidenti che furono quasi tutti incarcerati e raccontava non solo il fatto che il suo primo incontro con la polizia fu legato al fatto di aver deposto dei fiori di fronte alla statua di Tarashevchenko ma anche quale atto di dissidenza fosse anche il semplice fatto di parlare ucraino in pubblico a Kiev negli anni 70 non in periodi imperiali voglio dire sarebbe interessante se riuscissi a darci come dire senza entrare magari troppo nei dettagli ma come dire un senso di quale fosse lo stato di legalità della lingua ucraina fino alla sua indipendenza allora voglio tornare ancora un po' infatti non parliamo dell'ucraino nell'impero russo sì però all'inizio del 1920 quando si è instaurata diciamo è nata l'Unione Sovietica Lenin capiva molto bene che la questione ucraina proprio si chiamava infatti questione ucraina poteva portare delle difficoltà in futuro quello che loro hanno visto quello che succedeva nelle terre di odierno ucraina tra 1917 e 1920 e quindi lui decide deliberatamente dare uno spazio alla cultura ucraina e tra 1920 e 1930 si forma proprio cultura ucraina lingua ucraina perché lingua ucraina diventa lingua delle scuole lingua ucraina diventa lingua burocratica quindi se volevi andare a lavorare in qualche ministero dovevi per forza parlare l'ucraino e per dieci anni nasce nello stesso tempo nasce una letteratura di massa in ucraina che è una cosa molto nuova fresca arrivano tante traduzioni dalle lingue straniere e negli anni diciamo arrivano gli anni 30 con l'arrivo di Stalin lui assolutamente non condivide questa linea e decide che per tenere tutti questi popoli all'interno dell'Unione Sovietica così diversi con tutte le culture diverse bisogna andarci con la mano pesante e negli anni 30 c'è questo fenomeno nella storia ucraina chiamato come rinascimento fucilato che insomma vede il fatto di sterminazione fisica per via di fucilamento gli esponenti della cultura ucraina di letteratura, storia, pittura eccetera e qui insomma quello che stai già dicendo tu che anche poi andando avanti parlare in ucraino era praticamente un un reato anche qui la lingua ucraina non riesce a svilupparsi come si deve per via del fattore esterno perché non si concentra non cresce non ci sono le traduzioni la lingua che deve in pratica rispondere sempre al 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 tempo insomma reagire anche con neologismi insomma con l'arrivo del neologismo l'ucraino rimane sempre rimane sempre fermo e poi oltre di essere così oppresso in unione sovietica hanno formato questo mito dell'ucraina come nazione dei contadini e quindi l'ucraino era la lingua del paese e se volevi andare in una grande città fare la strada eccetera dovevi per forza parlare russo quindi per questo anche le città tante città in ucraina adesso sono russofone invece la periferia il paese è ucrainofono e quindi questo era lo stato lo stato solitamente come hai detto tu citando Marinovich che non si poteva non si poteva proprio anche usare l'ucraino perché veniva proprio soffocato da anche sempre da queste scelte scelte esterne e quindi l'ucraino fino al 91 ha rallentato molto e io insegnando lavorando sempre con le lingue vedo quando ci sono queste lacune mancanze mentre tante lingue sono andate avanti l'ucraino purtroppo ha avuto questa pausa questo rallentamento che ha dovuto dal 91 in poi accelerare insomma e andare a recuperare il tempo perso Ecco in questo senso allora visto che abbiamo abbiamo toccato l'argomento o meglio hai giustamente ricordato appunto una delle ragioni una delle molte ragioni per cui il russo sia diffuso in Ucraina soprattutto nelle città per questo anche quando ogni volta si parla di regioni in cui il russo è preluminante bisogna sempre non fare molta attenzione a guardare la differenza poi tra città e campagne e le zone limitrofe e si può notare che le differenze sono spesso molto marcate Allora proprio in questo senso qui sarebbe interessante siccome è una questione che emerge continuamente nei media si parla continuamente di questo con questo termine su cui bisogna fare molte premesse molte precisazioni russofono appunto riusciresti a spiegarci qual è un po' la situazione linguistica all'interno dell'Ucraina contemporanea cioè in che modo e fino a che punto diciamo l'Ucraina e il russo si sovrappongano e si intrecchino e soprattutto quali sono quali sono state anche dal 2014 in poi le scelte linguistiche perché come probabilmente spiegherai oggi molto spesso il fatto di parlare ucraino rispetto a parlare russo è una questione di scelta individuale personale non è solo una questione di quale lingua si sia si sia parlato a casa nel corso della propria infanzia sì infatti entro 2014 abbiamo una situazione dal 2014 in poi abbiamo una situazione molto molto diversa tra questi anni i primi anni di indipendenza ed era comunque dal punto di vista pratico implementare l'Ucraino era era difficile diciamo io in quanto di lingua ucraina cresciuta in una famiglia ucrainofono che ha fatto una scuola in ucraino trasferendomi in una grande città come Kiev nella capitale di Ucraina io ho continuato sempre comunque a parlare l'ucraino perché era mia madrelingua ha fatto anche la scuola in ucraino quindi però mi scontravo con il fatto che i periodici erano in russo il film erano in russo per comodità per la questione storica perché tanti giornalisti sono arrivati ancora con le radici in Unione Sovietica quindi era meglio scrivere insomma scrivere per loro era più facile scrivere in russo e quindi c'è stato nelle grande città diciamo a volte un ucrainofono si sentiva molto in minoranza però la situazione cambiava piano piano perché quando hanno cominciato a doppiare anche i film in ucraino soprattutto al cinema e anche i giovani hanno visto che l'ucraino era una lingua molto vivace molto bella anche può essere una lingua di moda perché tra i giovani si parla sempre delle tendenze delle tendenze di moda e quindi questo processo pian piano veniva implementato da solo ma nel 2014 arriva una insomma quello che ho vissuto e quello che ho sperimentato che non c'è stato questo razzismo tra l'ucraino e il russo in senso di assolutamente gli ucraini non accettavano la gente russofano o a viceversa era un bilinguismo che riusciva a esistere coesistere nello stesso territorio perché anche io ho tanti amici che parlavano fino a 2014 tranquillamente russo io rispondevo l'ucraino e tutti capivano uno o l'altro e non c'erano assolutamente insomma non c'erano delle incomprensioni o qualcosa del genere però in pratica tutti i russofoni dell'ucraina capiscono bene l'ucraino perché comunque è presente come lingua burocratica è presente anche nelle scuole quindi poi è una scelta di parlare a casa tra le famiglie perché i tuoi genitori parlavano quando eri piccolo in russo era una scelta personale dal 2014 la situazione cambia molto perché ovviamente il russo viene identificato già come la lingua del nemico che è venuto a a casa tua a ucciderti insomma annientarti e quindi tra tanti esponenti ma soprattutto nella popolazione quella che è fuggita dal Donbass perché sono stati due milioni di profughi interni dal Donbass passano dal russo all'ucraino per esempio voglio fare tre esempi che sono esempi fondamentali e l'esempio di lo scrittore ucraino Volodymyr Rafeyenko che ancora scrive il suo romanzo che parla proprio di guerra in Donbass lo scrive in russo poi lo traducono in ucraino e poi lui passa dopo aver vissuto a Kiev tanti non tanti fino a fino al giorno il 24 di febbraio perché è fuggito e quindi ha perso la casa per due volte lui passa all'ucraino e pubblica il suo primo romanzo in ucraino possiamo fare l'esempio di scrittrice Iyakiva poetessa Iyakiva che anche lei due volte ha perso la casa adesso è sfollata vive a Leopoli e è passata all'ucraino uno sperimento interessante aveva fatto la professoressa della storia Olena Stiashkina che nonché è una grande studiosa del periodo sovietico dell'ucraina lei ha scritto un bellissimo romanzo la morte del sto traducendo la morte del Leone Cecil aveva un senso e lei lo scrive a metà in russo a metà in ucraino e fa vedere come una menta di un russofono passa all'ucraino perché è una scelta morale però dall'altro canto per anche smascherare un po' questo mito che l'est era tutto russofono abbiamo il più grande esponente della cultura ucraina letteratura ucraina Serhii Jadan che proviene dalle zone di Luhansk ucrainofono vive a Kharkiv che è una città a 30 km dal confine con la Russia ucraino ucrainofono fino adesso un altro esempio abbiamo insieme a Jadan abbiamo fatto un bellissimo progetto dedicato alla città di Kharkiv Paolo Makov che tra l'altro avrà anche la sua esposizione a Venezia perché è riuscito a portare in qualche modo guidando tra le bombe portando via in salvo la sua moglie e sua madre perché il suo progetto è già stato scelto nel 2021 quindi lui già doveva partecipare insomma alla Biennale di Venezia lui è di origine russa però ha vissuto sempre in Ucraina da quando era piccolo vive a Kharkiv e parla un ucraino perfetto insieme a come parla anche il russo e quindi questo bilinguismo nei territori ucraini infatti è sempre esistito e la questione della lingua tra l'altro e soprattutto nel territorio del Donbass era una questione abbastanza anche strumentalizzata perché ogni volta quando c'erano le elezioni in Ucraina il partito filo russo tipo quello di Yanukovych usciva con la carta della lingua adesso noi facciamo della lingua russa una lingua regionale o seconda lingua del seconda lingua ufficiale dell'Ucraina una volta votato queste cose non si facevano più quindi anche qui vediamo come la questione di lingua veniva anche nei nostri tempi abbastanza strumentalizzata per polarizzare la popolazione sì e credo che sia particolarmente interessante che per il pubblico il fatto che tu abbia spiegato appunto come non si tratti solo di bilinguismo nel senso che le persone sono in grado di capire parlare scrivere a volte in entrambe le lingue ma è un bilinguismo particolare nel senso che è possibile nel corso della stessa giornata per una persona passare da una lingua all'altra con persone diverse e addirittura intrecciare le due lingue nell'arco della stessa conversazione questo magari lo sai te del fenomeno di questo misto tra ucraino e russo che si chiama Surgic è una specie di dialetto che adesso in Ucraina è diventato una specie di posso paragonare alle realtà milanesi come il dialetto milanese tipo un misto di lingue che usano i comici che se vuoi ironizzare lo usi insomma è diventato è un fenomeno presente proprio nel presente ucraino e quindi un fenomeno che ci sono ovviamente i puristi che dicono che non si possa usare Surgic però è un fenomeno che non possiamo farne a meno perché è presente e l'altra cosa che volevo aggiungere sulla questione linguistica che ovviamente adesso noi parliamo essere ucraino non vuol dire parlare l'ucraino e questo l'abbiamo visto anche dal 2014 in poi e abbiamo visto anche nell'ultimo mese che le città come Mariupol Kharkiv Odessa che sono per la maggior parte russofona si sentono ucraini e qui non è la questione della lingua la questione di cultura è la questione di apertura mentale è la questione di una scelta del futuro come ognuno vede il suo futuro e quindi un russofono assolutamente tranquillamente si sente un ucraino sì ovviamente a chiunque provi a pensare che la lingua sia come dire un elemento sufficiente a determinare la nazionalità di una persona insomma basta fare la lista di esempi di quanti paesi si parla una lingua voglio dire i canadesi non sono né inglesi né francesi voglio dire no non serve andare a è un'idea completamente che non serve nemmeno smentire o affrontare quella quello che che dicevi appunto riguardo alla scelta però di della lingua secondo me è estremamente affascinante perché qualcosa quella è davvero un'esperienza abbastanza unica nel senso che la maggior parte probabilmente direi che nella maggior parte degli altri paesi europei anche in presenza di di diverse componenti linguistiche non si siano per loro fortuna diciamo trovati a dover fare questa scelta per ragioni diciamo politiche così tragiche in questi anni e questo si collega anche ovviamente a quello che dicevi su la su sugli scrittori su chi addirittura ha scelto di scrivere il libro metà in una lingua metà nell'altra in questo vorrei arrivare appunto a quello che è il ruolo dell'elite culturale intellettuale ucraina in questo periodo perché sappiamo benissimo che la guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina non è solo una guerra militare e anche non colpisce solo i civili come sappiamo ma è anche una guerra nei confronti dell'identità culturale del paese lo vediamo perché vengono bombardate chiese musei nel momento in cui i territori vengono occupati i membri della società civile vengono rapiti o scompaiono non solo politici ma anche giornalisti direttori di musei eccetera e questo appunto sarebbe interessante capire perché so di tantissimi scrittori che al momento sono in prima linea a combattere che è un fatto abbastanza come dire che rievoca quasi altre altre epoche no? se puoi parlarci di questo ecco della scelta degli scrittori infatti per la loro indole morale non possono fare un passo indietro diciamo come hanno scelto anche magari preso una decisione difficile ma morale di cambiare la lingua anche hanno preso tanti la decisione di rimanere nei loro posti a ruolarsi andare e difendere difendere ciò che è suo infatti difendere ciò che è suo è molto nell'indole ucraina di difendere proprio i propri territori e i propri confini e infatti l'Ucraina adesso sta rischiando di oltre a essere rasata al suolo ma anche proprio questa parte culturale quella che ha già sperimentato negli secoli scorsi di essere eliminata fisicamente insomma anche questo è questa guerra contro la scelta degli ucraini di essere indipendenti di andare per la propria strada e qui infatti vediamo che oltre una guerra del territorio militare abbiamo la guerra di culture diverse delle vedute del futuro diverse assolutamente e la cultura ucraina in questa guerra rischia di in parte essere eliminata fisicamente abbiamo già perso un attore a bucia che si chiamava Pavlo Li che aveva prestato il suo giubbotto antiproiettile a una ragazzina che stava per evacuare e lui è rimasto travolto nel bombardamento hai parlato già anche di scuole che erano se non mi sbaglio più di 300 bombardate e tra queste scuole c'è anche la mia scuola dove ho studiato per 11 anni e si parla sì parliamo dei libri che hanno cominciato a sequestrare soprattutto in Ucraina orientale libri che parlavano di storia dell'Ucraina i libri che parlavano anche della storia del dopo 2014 e qui parlando di questa lotta tra culture vorrei citare che un filosofo Volodymyr Jermolenko che un filosofo ucraino che ha detto che anche infatti l'indole degli ucraini quelli che vivono sul territorio ucraino è proprio l'indole di libertà non sempre libertà per come aveva detto lui magari libertà da cioè tipo di andare sempre via da qualcuno però è sempre c'è questa indole della libertà e c'è questo nemico esterno che conoscendo la storia non ha sperimentato la libertà nella sua storia perché per quanto possiamo rammentare nella storia il popolo russo parliamo del popolo non parliamo delle certe poche insomma pochi gruppi ma in grande il popolo russo lo aveva detto anche Vassili Grossman nel suo bellissimo libro Tutto scorre che non ha mai sperimentato la libertà in quanto proprio la scelta la rivolta popolare hanno sempre cercato una uno zar un tiranno un dittatore per essere per essere guidati e quindi anche qui vediamo proprio questa scelta e la battaglia se vogliamo la guerra tra culture del modo di vivere e il modo di il modo di scegliere il futuro Volevo fare un appello anche alla chat perché ci sono state moltissime domande diverse persone continuano a chiedere su Holodomor come ho già scritto diverse volte venerdì faremo una puntata con il professor Andrea Graziosi solo sull'argomento quindi tutte le vostre domande potranno essere risposte allora anche qualsiasi vostra domanda sulle differenze delle varie carestie che sono accadute in Unione Sovietica in quegli anni il professor Graziosi affronterà tutti questi temi però ovviamente siccome vedo che è un tema che continua a ricorrere non era qualcosa di cui avevamo necessariamente parlato con Ierina ma se vuoi dire qualche parola riguardo su quello che è diciamo l'impatto diciamo culturale di questa di questa tragedia e diciamo anche nella sua nel suo ruolo come evento fondante identitario dell'Ucraina moderna innanzitutto agli ascoltatori voglio consigliare due libri se volete conoscere anzi tre se volete conoscere la storia di Holodomor allora il primo sì di Andrea Graziosi le lettere da Kharkiv Holodomor raccontato nelle lettere dei diplomatici italiani in Unione Sovietica l'altro libro che vi voglio consigliare è il libro di la storica americana di origine polacca Ann Applebaum si la Red Famine se non mi sbaglio la guerra di Stalin contro i contadini ucraini e il terzo libro e c'è anche in italiano e il terzo libro che vorrei consigliare è un romanzo di Vassil Barca tradotto in italiano Il principe giallo lo sterminio dei contadini ucraini per la fame che tra l'altro tra poco faremo insieme ai miei studenti durante le nostre lezioni del corso di letteratura ucraina Holodomor è un trauma per tante generazioni ucraine un trauma che solo nell'Ucraina indipendente abbiamo cominciato a narrare a elaborare a lavorarci perché è uno di quei traumi che non sono stati lavorati diciamo perché è sempre stata tacciuta e quindi è un trauma che fino adesso nell'Ucraina moderna ci stiamo lavorando anche e la cosa forse peggiore di Holodomor è che in questi giorni quando si pensa a una Mariupoli insediata sento tra miei amici parlare ecco tipo di cercare rievocano nella storia passata il trauma di Holodomor e la connettono adesso a questa tragedia che si sta sperimentando che si sta adesso che sta succedendo adesso a Mariupol ma anche a Cernyiv nelle città insediate accerchiate senza poter far arrivare un convoglio umanitario perché sappiamo che a Mariupol non c'è neanche l'acqua potabile e quindi e questo è il trauma che non è stato curato perché subito la gente ha pensato a Holodomor e quindi vi voglio solo dire questo che quanto ha avuto questo impatto nella storia di Ucraina che appena si parla di una Mariupol insediata senza l'acqua potabile senza cibo subito si pensa e non solo si pensa si ricorda perché ci sono ancora delle persone che se lo ricordano come l'hanno insomma poi tra i nonni famiglie varie si era raccontato infatti adesso sento tra tanti i miei amici dire quel pane che nascondevano le nonne nei vari posti della casa e vedono che la storia si ripete perché come me l'avevano detto i miei amici da Leopoli loro dicevano ecco la nonna diceva non fidarti mai del soldato russo e faceva queste scorte di pane nascoste sempre per casa e quindi vediamo come questo trauma questa storia si è ripetuta anche nei giorni nostri perché i conflitti quando non vengono risolti purtroppo tornano io non so se sarà la nostra generazione a risolverlo lo spero ovviamente ti ringrazio sto scorrendo come dire la chat alla ricerca qualche altro spunto se no vorrei anche hai fatto presente appunto prima che quando eri più giovane appunto molto spesso i giornali quotidiani erano in russo pur i film la televisione e quindi c'era come dire era anche necessario ovviamente per avere una vita anche come dire culturale ovviamente conoscere e parlarlo quale diresti è la situazione invece oggi nel senso da quanto so come dire qual è invece il rapporto oggi tra le due lingue non solo in come come sono parlate dalla popolazione ma anche per quanto riguarda appunto le pubblicazioni non solo libri ma anche quotidiani online e film e televisione allora voglio raccontarvi di un fenomeno che è successo da poco e proprio nel periodo se non mi sbaglio pochi giorni prima dell'invasione sull'arga scala della Russia che era partito nei social media soprattutto tra blogger che comunque continuavano magari anche usare il russo come la loro lingua ed è partito questo flashmob che si intitolava il mio ultimo posto in russo hashtag il mio ultimo posto in russo e ho visto tanti tanti giornalisti che senza problemi usavano continuavano a usare il russo perché non era un problema di passare all'ucraino come per protesta cosa per quanto riguarda l'ucraino sì ci sono stati delle leggi insomma anche a livello statale che proteggono insomma promuovono più anche l'ucraino infatti abbiamo i quotidiani ormai in ucraino anche se non vengono adesso pubblicati però abbiamo le home page delle pagine delle notiziari in ucraino ma anche in russo per chi sceglie ma soprattutto adesso è importante perché perché potevano per esempio anche dalla Russia a connettersi e leggere le notizie quello che stava succedendo in Ucraina e quindi abbiamo la situazione è cambiata molto perché anche arriva tutta una questione che riguarda non soltanto doppiaggio dei film ma anche le battute le pubblicità perché le pubblicità anche gli slogan pubblicitari contano molto sulla questione di moderna di lingua quindi l'ucraino ha avuto un boom enorme nello sviluppo negli ultimi anni da 2014 in poi se vogliamo prendere quella data come punto di partenza e per me che lavoro con la lingua e con le lingue e che insegno agli italiani l'ucraino che poi vanno a Kiev e devono andavano a Kiev che cercavano anche di insomma di usarlo anche per me è anche sempre un qualcosa in più di farli imparare di vedere di praticare anche ciò che loro hanno imparato qua in Italia non sento ero inniotto ovviamente sì se non sbaglio poi correggimi se mi sbaglio ovviamente ma qualsiasi pubblicazione mi pare che la legge preveda che qualsiasi pubblicazione abbia una traduzione in ucraino cioè che se un libro o se un film o se un quotidiano vuole essere pubblicato in russo o ha il russo come propria lingua principale questo è assolutamente possibile a patto che ci sia sempre resa disponibile la versione in ucraino ecco questo è corretto sì anche per esempio se si mostrano un film in russo per esempio in tv bisogna provvedere dei sottotitoli sottotitoli in ucraino perché comunque russo lo capiamo ma la situazione dal 24 febbraio è talmente cambiata che adesso non posso dirvi anche che adesso è così perché per esempio anche c'è stato i libri russi sono stati banditi c'è proprio una in senso banditi in quanto mercato che non per non insomma non avere i legami e ovviamente si capisce qual è la qual è il motivo per tutto questo quindi la situazione di adesso sicuramente evolverà e cambierà nei prossimi nei prossimi settimane mesi e voglio anche menzionare il presidente di Ucraina che è russofono Volodymyr Zelensky che ha imparato così bene l'ucraino che a dare l'intervista ai giornalisti russi si era scordato delle parole in russo e chiedeva infatti i suoi aiutanti non so però era difficilmente per vedere più volte quando le persone tante volte le persone quando passano ormai anche al primo ovviamente una parola arriva non sempre sempre in fretta e se parli poi alla nazione sia la mattina che la sera ovviamente questo porta anche a dimenticare dimenticare il russo si se ne parlava anche se fosse un atto di se fosse genuino diciamo se fosse fatto dimenticarsi se fosse un atto di trollaggio diciamo può essere però comunque già si sente quando passa in russo cioè al russo si sente che lui ha un accento un po' cioè che non questo da una bilingue però ucrainofona riesco a capire che lui ha già in russo ha già un accento quindi però ovviamente rimane sempre di madrelingua russa e quindi abbiamo visto come anche il presidente era bilingue esatto e poi intanto do il benvenuto Alexei che si è unito alla live ciao buonasera ciao e proprio per chiudere anche proprio questa digressione che abbiamo fatto sull'aspetto linguistico allora volevo chiedere siccome abbiamo parlato delle pubblicazioni dei giornali del cinema della televisione allora magari ovviamente se è un argomento di cui ti va di parlare dal momento che poi tu insomma insegni lingua e letteratura ucraina qual è invece la situazione nelle scuole in Ucraina cioè in che lingua si studia e ovviamente se ci sono delle differenze a seconda che si tratta di scuole elementari o superiori ma io sinceramente adesso non posso così rispondere a questo sì perché posso parlare delle mie zone solo perché io provengo dalle zone di Kiev e mia mamma lavora in dipartimento di istruzione scolastica e quindi nelle mie zone so che l'ucraino comunque era sempre lingua di scuola fuori da scuola si parlava Surgic un po' dialettale perché essendo anche al confine con Bielorussia delle penetrazioni comunque ci sono state e se vogliamo prendere come esempio il libro di Sergi Jadam tra l'altro anche qui faccio un po' di pubblicità l'ultimo suo libro tradotto romanzo tradotto in italiano che si chiama Il Convitto uscito per la Voland se non mi sbaglio nel 2020 lui proprio parla sulla guerra nel Donbass e parla del insegnante dell'ucraino in Donbass quindi la lingua che lui infatti lui sempre parla questo insegnante di questa lingua che è uno strumento non la sente come madrelingua perché fuori classe si parla russo però lui era una specie di non so che missione era insegnare l'ucraino nel Donbass ve lo invito a leggere e a riflettere su perché poi il protagonista fa un percorso tutto suo verso di prendere una posizione perché parte con una senza assolutamente una posizione un po' pacifista senza di non prendere le posizioni e alla fine del suo percorso quando va a recuperare il suo nipote in un convitto in una zona insediata assolutamente in questi tre giorni cambia la sua posizione quindi questo è un romanzo anche da capire molto la situazione di oggi lascerei parola ad Alexia se ha qualche domanda perché peraltro sono consapevole che siamo quasi alla fine del nostro tempo se come dire se vuoi se possiamo fare un'altra domanda o se hai altri impegni ovviamente non vogliamo trattenerti e abusare del tuo tempo ecco ma io posso aggiungere anche giusto una domanda visto che ho seguito la live a tratti visto che stavo finendo di lavorare intanto ciao Iarina piacere probabilmente siamo in un senso molto laterale colleghi perché tu insegni mi pare di capire io invece faccio il traduttore quindi sempre sulla linguistica torniamo a a parare faccio il traduttore di lingua italiana e russa piccolo piccolo inciso su di me io sono mezzo russo nasco e vivo in Italia ovviamente sono qui per parlare dei fatti di quello che succede e dire a tutti che la guerra è ovviamente sbagliata ripetere a tutti anche il bellissimo slogan che hanno tirato fuori in Russia che è niet vai niet questa è la cosa più importante però avrei una domanda per te da un punto di vista più che altro culturale divagherei un attimo dalla dalla linguistica appunto stiamo notando un distacco sempre più netto tra i russi e gli ucraini a livello culturale ovviamente per i fatti che stanno accadendo tuttavia ho notato una se possiamo dire piacevole tendenza di come dire di solidarietà tra quelli che vanno via dall'Ucraina per l'ovvio motivo della guerra e quelli che vanno via dalla Russia perché hanno paura delle repressioni del governo che stanno diventando sempre più più forti e si ritrovano in paesi terzi come per esempio la Turchia come per esempio tanti altri paesi europei e ho sentito ho visto tante testimonianze di momenti di grande solidarietà tra queste persone tra Ucraini e russi che entrambi contrari alla guerra scappano e volevo sentire giusto una tua opinione two cents on quello che che pensi si possa creare anche culturalmente tra i due popoli fuori dalla dalla Russia e dall'Ucraina grazie io penso che gli ucraini stanno scappando dalla guerra i russi non stanno scappando dalla guerra questa è un po' la differenza perché gli ucraini scappano dove rischiano di essere di rimanere travolti uccisi per sempre in Russia per ora si può vivere andare in carcere però per la per la libertà di parola e questa è una differenza fondamentale e penso anche che tra questa oltre la la finestra storica che si è creata adesso anche per i russi è una grande possibilità finalmente di direla loro di ritrovarsi come popolo non so se ritrovarsi come popolo fuori dai loro confini potrebbe aiutare forse all'interno del loro confini potrebbe aiutare molto di più perché infatti per loro è un'occasione anche storica e ne abbiamo parlato prima di questa libertà che non c'è mai stata di finalmente sperimentare la libertà di uscire e di diciamo tirare giù il tiranno perché anche adesso si discute e anche si tratta del futuro della Russia e quindi come sarà questa Russia vuole continuare a essere colonizzatore vuole continuare a marcarsi del sangue degli altri popoli e quindi io accetto e molto infatti ho anche la gente che mi ha chiamato i russi che sono stati vicini e sono e purtroppo sono in minoranza e continuano anche a scappare e quindi cosa rimane chi rimane lì come sarà questo futuro e quindi il mio appello è che questa è una finestra storica anche per la Russia per proprio rivalutare e di scegliere anche loro un futuro diverso da quello che li posso aspettare grazie grazie concordo in larga parte ovviamente ci auguriamo tutti che la Russia vada verso un futuro democratico e l'Ucraina vada verso un futuro di pace questi sono gli auguri che possiamo fare al momento senza dubbio grazie su questa nota diciamo su questo augurio volevo anche ringraziarti Irina so che siamo stati qui per poco più di un'ora e ti avevo detto un'ora quindi come dire speriamo di non aver annoiato nessuno no penso di no il numero di spettatori è solo che è aumentato nel corso di questo tempo e la chat è stata estremamente vivace quindi credo che non abbiamo annoiato nessuno e penso anche che siamo riusciti ad affrontare gli argomenti magari non sempre di strettissima attualità ma questa era anche l'intenzione cioè volevamo come dire confrontarti con aspetti storici e culturali che sono come dire fondamentali per capire il presente di quello che sta succedendo senza queste coordinate è molto difficile e per questo ti ringrazio e ancora grazie per essere venuta e speriamo di averti di nuovo in futuro magari su anche altri temi ecco grazie a voi Alexei se hai qualche traduzione da condividere è interessante anche poi a leggere quindi certo sì grazie a voi e grazie per la serata e spero che abbiamo fatto veramente qualcosa di importante e utile oggi quindi arrivederci grazie grazie mille buonasera grazie a te grazie a te